Ciao a tutti ragazzi sono JK Bish e qui con me c'è Inferus Bella a tutti ragazzi Oggi vi faremo vedere lo spawn di dove trovare la mazza da golf Adesso noi non lo possiamo fare perchè è sera E quindi l'attività, il golf è chiuso, non si può fare Praticamente voi iniziate la partita, non c'è bisogno che fate Arrivate fino alla buca Voi andate dove sta andando Inferus adesso Qui e schiacciate Guardate a quest'ora questa attività non è disponibile Per praticarla torna tra le 6 e le 18 Qui abbiamo ucciso le guardie prima Praticamente voi iniziate l'attività, poi mettete esci E vi ritroverete la mazza da golf Va bene ragazzi questo qui era il video Spero vi sia piaciuto Lasciate i like, commentate e iscrivetevi al canale Ciao Questa qui è la Kira Cabaya Ciao